La figura del Beato Rosario Livatino è una figura centrale nel nostro percorso di giustizia, nel nostro percorso che tende a dare la giustizia a tutti i cittadini, perché ci ha insegnato una cosa, che la giustizia si fa portando a casa il proprio lavoro. La casa per Rosario Livatino era la giustizia e questo deve essere una grande fonte di memoria per tutti noi. Noi dobbiamo passare da una memoria ad un percorso condiviso che poi comporti una concreta speranza, perché deve essere sempre al centro di ogni ordinamento democratico una giustizia che funzioni, una giustizia nella quale i cittadini ripongano una doverosa fiducia. Ed è questo che dobbiamo fare come operatori della giustizia. Gli avvocati, i magistrati e tutti coloro che quotidianamente si occupano della cosa più bella del mondo, che è risolvere le conflittualità.